Capitolo 14 Benché desiderasse farlo morire, temette il popolo che lo teneva per profeta. Ora, come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figliuola di Erodiade ballò nel convito e piacque ad Erode, onde egli promise con giuramento di darle tutto quello che domanderebbe. Ed ella, spintavi da sua madre, disse, dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista. E il re ne fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data. E mandò a far decapitare Giovanni nella prigione. E la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirano, poi vennero a darne la nuova a Gesù. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo segreto e indisparte, le turbe saputolo lo seguitarono a piedi della città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una gran moltitudine nebbe compassione e ne guarì gli infermi. Or facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero, il luogo è deserto e l'ora è già passata. Licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro, non hanno bisogno d'andarsene, datelor voi da mangiare. Ed essi risposero, non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci. Ed egli disse, portatemeli qua. Ed avendo ordinato le turbe di accomodarsi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci. E, levati gli occhi al cielo, rese grazie e poi spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dei pezzi avanzati, dodici ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, oltre le donne e i fanciulli. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a montarne la barca ed a precederlo sull'altra riva, mentre gli licenzierebbe le turbe. E licenziata le si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era qui vi tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarano e dissero, è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse, state di buon animo, son io, non temete. E Pietro gli rispose, signore se sei tu, comandami di venire a te sulle acque. Ed egli disse, vieni. E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura, e cominciando a sommergersi, gridò, signore salvami. E Gesù, stesa subito la mano, lo afferrò e gli disse, o uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono montati nella barca, il vento sacquetò. Allora, quelli che erano sulla barca, si prostrarono dinanzi a lui, dicendo, veramente tu sei figliuol di Dio. E, passati all'altra riva, vennero nel paese di Genezaret. E la gente di quel luogo, avendolo riconosciuto, mandò per tutto il paese all'intorno, e gli si presentarono tutti i malati. E lo pregavano che lasciasse loro toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccarono furono completamente guariti. Grazie. Grazie.